Buon pomeriggio amici lontani e vicini siamo al centro studi euliano dove si presenterà tra poco il volume i vulcani parlanti delle eolie a cura di Adelaide Orlando che è qui con noi insieme a Monica Saccomandi e a Francesca Negro. Allora i vulcani parlanti delle eolie, un volume non solo per i più grandi ma direi soprattutto per i più piccoli? Sì è un volume per bambini anche per adulti se ci immaginiamo anche gli adulti ci immaginiamo piccoli. Sono le isole che si raccontano, danno delle piccole curiosità di carattere naturalistico e danno alcune perché l'idea è quella che ogni bimbo deve cercare di scoprirne molte altre. Quindi sono degli spunti che spingerà loro a viaggiare nelle eolie. È una guida non solo per i bimbi che non hanno mai conosciuto le eolie ma anche quelli che vivono nelle nostre isole. E infatti lo dedico a loro oltre che alle mie bimbe Giulia e Marina e sono stati loro a farmi venire l'idea di questo libro. Le hanno dato l'ispirazione? Sì sicuramente sì. Anche loro hanno contribuito? Decisamente loro, lo hanno scritto con le loro osservazioni e con la pazienza perché ho tolto anche del tempo a Giulia e Marina per realizzare questo libro e spero piaccia. È un volume che conferma il legame che c'è per queste isole, un legame vulcanico? Direi di sì, fortissimo. Io sono eoliana, sono nata in Lipari, i miei nonni a Stromboli. Lavoro purtroppo da... purtroppo no perché Torino è una bellissima città. Lavoro da 11 anni a Torino dove li insegno, sto benissimo però il legame con le mie isole è fortissimo. In questo percorso sono state fondamentali le presenze di Monica che ha illustrato il libro e di Francesca che lo ha, io dico, costruito. Quindi senza Monica e senza Francesca non ci sarebbe stato i vulcani parlanti delle olie. Un trio vulcanico di donne? Solo donne, sì 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 sì. Bene, allora sentiamo la seconda testimonianza. Monica ha curato le illustrazioni. Non è stato un lavoro molto difficile, no? Vista insomma la bellezza di queste isole. Sì, da questo punto di vista è vero, nel senso che l'utilizzo insomma delle carte colorate, quindi insomma di questa vivacità è stato favorito sicuramente da questi colori e forme meravigliose. Dall'altra però insomma è stato un lavoro abbastanza lungo anche perché negli intervalli comunque della mia vita, del mio tempo, del lavoro che comunque faccio, che insegno, ho dovuto poi elaborare tutto, anche perché io non sono un'illustratrice professionista, quindi ho cercato in realtà di scegliere una modalità di espressione che fosse più vicina a un certo mio modo di lavorare, quindi utilizzando proprio carte colorate come se fossero dei collage. La cosa bella è stato proprio questo confronto continuo con loro, nel senso che io sono partita in realtà da disegni che aveva fatto già Schizzi, che aveva fatto Ada. O le bimbe? Beh, non lo so, erano molto vicini, probabilmente anche loro hanno collaborato, però quello mi è servito per capire il taglio che voleva dare anche come immagini, nonostante insomma sia l'autrice e quindi c'è stato un continuo confronto, poi Francesca mi conosce da più tempo, quindi spesso facevo vedere a lei i lavori e lei mi diceva spostati più in questa direzione piuttosto che l'altra e quindi è stato un lavoro insomma molto coordinato. Dulcis in fundo, Dulcis in fundo, Francesca che ha costruito questo volume, ecco come si è arrivati alla costruzione? E si è arrivati alla costruzione raccogliendo le intenzioni di Adelaide e poi lavorando sul testo e quindi revisionando alcune cose, semplificando, poi scegliendo lo stile delle illustrazioni a chi dovevano, volevano essere rivolte, e poi assemblando, facendo un progetto e quindi assemblando, impaginando, scegliendo insomma uno stile che potesse funzionare, valorizzasse il testo, valorizzasse le immagini e potesse andare bene per i bambini ma apprezzato anche dagli adulti. Quindi curato nei minimi particolari? Curato sì, sì, io faccio questo di mestiere, mi occupo di editoria e quindi sì, ho fatto lo stesso lavoro e la stessa dedizione che ho per gli altri testi. Un grazie speciale va però alla Federalberghi, se non avesse dato il suo contributo economico non avremmo costruito questo libro. Cristian Del Bono ha creduto in questo progetto due anni fa quando gliene abbiamo parlato, anche con lui l'abbiamo analizzato bene e ha detto beh questa è una bella idea, portatela avanti, noi ci saremo. Quindi veramente un grazie forte forte a Cristian Del Bono e alla Federalberghi che lui rappresenta. E anche i amici che ci hanno aiutato. Perché è una bella valenza turistica la guida? Secondo me sì, sì, secondo me sì, perché appunto presenta le isole in maniera diversa, in maniera... L'altra faccia. Ecco un altro aspetto, un altro aspetto. Bene, abbiamo completato, ringraziamo tutte le nostre ospiti, Adelaide Orlando, Monica Saccomandi e Francesca Negro. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci. Grazie.